Dove siamo? A vedere i dinosauri! A vedere i dinosauri! E dove sono? Vediamo! Ecco il primo dinosauro! Questo è quello piccolino! Bella! Oh cucciolo! Guarda! Wow! E il prossimo? Chi è? Vediamo il nome? Sì, sì! Vediamo il nome! Il nome è qua! No, non è quello! Wow! Il prossimo! Che è scritto? Guarda! Spinosauro! Ho detto Spinosauro! Ah tu conosci? Vediamo questo Spinosauro! Wow! Wow! Let's go! Go! Andiamo avanti a vedere? Dai, cammina! Ecco! Asi al prossimo! Guarda questo! Questo sì! Non toccare! Non toccare, no! Wow! Ah! Questo secondo me... Vediamo come si chiama! Allora! Asi al prossimo! Adesso, hai ragazzi! E' un bel gasto! Adesso, un po' inizia! È un po' inizia! Adesso, sei, è un po' inizia! Adesso, hai ragazzi! Qu'è un po' inizia? Oh! È un po' inizia! Adesso, hai ragazzi! vai così sotto andiamo a vedere mamma mia asia kira si, mi ci miało tirex, hello ciao 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 allora asia, si tu tua altezza ciao ciao allora salutiamo i amici ciao a tutti ciao 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 ciao